I ragazzi del gruppo dei ragazzi nuovi sono circa una sessantina da tutti persone che hanno iniziato questo lavoro alcuni anche per la prima volta quindi in particolare loro sono molto carichi c'è molta energia positiva in generale nella squadra si è creato un ottimo spirito di gruppo ho già visto anche se all'interno dei vari reparti quindi un po differenziato però complessivamente c'è un'energia che ha attraversato trasversalmente tutto il personale molto molto positiva il che mi fa ben sperare insomma che si riesca a fare un ottimo lavoro questo InterSpar è la ciliegina sulla torta di un anno eccezionale per la nostra azienda in Emilia Romagna abbiamo posizionato tutte e tre le nostre insegne sul territorio un Despar a Reggio Emilia un EuroSpar a Lugo e oggi questo meraviglioso InterSpar nel cuore di Imola devo dire che c'è grande entusiasmo abbiamo aperto anche un nuovo polo logistico a servizio di questa regione gli investimenti stanno arrivando importanti e testimoniano quanto l'Emilia Romagna ci stia a cuore e il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per questa regione sono convinto che col supporto di tutti i colleghi raggiungeremo questo ambizioso obiettivo. Abbiamo portato delle modifiche rispetto all'ultima apertura che è stata di Casier l'anno scorso abbiamo inserito il progetto cucina all'interno del reparto gastronomia che per noi è un vanto abbiamo oltre 40 ricette che vengono preparate piatti che vengono cucinati tutti i giorni dai nostri cuochi proprio davanti agli occhi dei nostri clienti altra particolarità nuova del punto vendita è il progetto vini, birre e liquori dove abbiamo creato dei corner come se fossero delle piccole enoteche non abbiamo tralasciato i corner della parafarmacia dove ci sono i nostri farmacisti che offrono sempre un servizio costante e affidabile nei confronti dei nostri clienti. Abbiamo voluto portare una parte di prodotti tipicamente del territorio. Tipicamente del territorio per noi significa aver collaborato con i produttori locali. Finalmente oggi apriamo questo bellissimo Interspar, un cantiere durato circa nove mesi con l'aiuto di diverse aziende locali che abbiamo trovato e ricercato nel territorio. Abbiamo realizzato questo punto vendita con le migliori tecnologie disponibili. In copertura abbiamo un impianto fotovoltaico di 120 kilowatt per la produzione di energia elettrica, abbiamo realizzato dei posti auto per la ricarica di mezzi elettrici e predisposto per un futuro ampliamento perché quello sarà il futuro. Abbiamo inserito su tutti i nostri frigoriferi le porte per ridurre l'emissione di CO2, cosa che facciamo su tutti i nostri punti vendita che ci permette di avere un grosso risparmio sulle emissioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti